un calmo ufficio il commissariato era un calmo ufficio che assomigliava al commissario che lo comandava al suo arrivo questi si trovò sulla scrivania un rapporto si mise a sedere e cominciò a leggere una volante aveva catturato per strada un nero che aveva pugnalato un giovane passante un metro e ottanta una settantina di chili secondo il rapporto il nero non aveva opposto resistenza e non aveva dato nessuna spiegazione del suo gesto per essere sincera disse la poliziotta che aveva catturato il nero sulle prime non ho avuto sospetti sembrava uno verbene i suoi documenti erano autentici ma ma che cosa disse il commissario il nero mi ha detto che era sbucato dal deserto per venire in italia e quando hai deciso di arrestarlo quando ho sentito il suo sguardo che era di odio non so perché perché il sentire una capacità vibratoria dell'individuo quindi di percezione che va dal semplice odio a sentire più alto disse il commissario